Musica Rafinha, De Bruyne Ozil, ragazzi è una roba assurda Io ho ancora 106.000 crediti Dallo scorso pack opening Che sto registrando di fila Infatti ho la stessa maglia Non è che ho sempre la stessa maglia Però ho finito l'altro Ecco, allora abbiamo Pacchetti da 7.500 Ne apriamo un po' Se vedo che non esce nulla Però smetto perché tanto aprire pacchetti Senza trovare nulla Non conviene molto Ecco, vorm, il primo che mi è uscito Vorm e la larabi Non so se cipolla, grazie Ok, ho trovato la merda più totale Pure qua, quindi scartiamo tutto Apriamo il secondo pacchetto Da 70, sì, da 75.000 Da 7.500 crediti Ma sei serio? Ma cos'è sta roba qui? Terzo pacchetto da 7.500 Alt in top No, mi serve un po' di fortuna ragazzi Adesso io spina dorsale Ma cosa trovo? Cosa trovo? Ma cosa segna? Ma che... Manualmente Ma va a fanculo Ma che pacchetti di merda Io sono proprio sfigata nei pacchetti Non registravo il trozo di Maria Niente, niente, boh Schifo, schifo, schifo Quattro pacchetti buttati per ora Quinto pacchetto Se non mi sbaglio 7.500 crediti Niente Tra ore Cosa mi servi? Porca lurida Adesso ragazzi Un pacchetto da 5.000 Con Howard Howard Perché A noi piace Howard Con quella barba E infatti ci fa trovare Teton E Ospina E un argentone Direi proprio da dio Allora abbiamo ancora 72.000 crediti Direi che Questo pacco opening Sta proprio andando Una meraviglia Abbiamo trovato Una ceppa Ma 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 mi fai trovare qualcuno? Porca vacca Ma neanche i giocatori rari Mi fai trovare Mi prende per il culo Sto gioco La figa Ho trovato la figa Ah no la fita Ma che è sto qui Minchia George Clooney Un altro pacchetto Ma saltiamo Caballè Bernard Non costate niente Non costate Ma andate a vendere Andate a vendere le banane Dai ragazzi Abbiamo 60.000 crediti Fammi uscire qualcuno Per favore Benteche Dai Benteche Ma cosa devo fare Per farmi uscire I giocatori forti Cosa devo fare Un altro pacchetto C'è Iguain Niente Ma Luda Ma questo gioca ancora Ed è l'80 Madonna mia C'è 45 anni Ho 35 anni Gioco ancora a calcio Ma vai a dormire Mamma mia Ancora in piedi sta 46.000 crediti Ci deve uscire qualcuno Per forza Se non lo stacco Se non lo stacco Lo stacco Vandicci No Ma che schifo Ibrahimi Ma che è questo Mio figlio Madonna No Ora ho messo zitto Madonna mia Ragazzi Ragazzi Se volete Pack opening Mi inviate voi Sulla paypal Soldi E io compro i crediti E vi faccio i pack opening Perché qua Cioè se io dovrei comprare i crediti Per fare il pack opening Questo è quello che esce Quindi Tutto sprecato Ma Cos'è Cos'è Sta roba qui Porca lurida Ok abbiamo gli ultimi 20.000 crediti Saltiamo Sissoko Ok Scartiamo tutto Brutalmente Abbiamo ancora 22.000 crediti Possiamo aprire 3 pacchetti Da 7.500 Forse 4 Li lasciamo così Copriamoci Non lo so Ma voi cosa trovate nei pacchetti ragazzi Cosa trovate voi nei pacchetti Qualcosa trovate Iguain Per l'ultimo pacchetto Saltiamolo Niente Arshavin Pecio tosto Il doppione Che non ho mai uscito Però vabbè Un altro pacchetto Ancora Iguain L'ultimo pacchetto Ragazzi Per questo video è tutto E vi saluto Lasciate un bel mi piace Un commento È uscito Barnetta Porca paletta Per questo video è tutto E vi saluto Che sfiga Lasciate un bel mi piace Bella